Sì, ma questa è la sede principale. Volevo sapere più o meno di che cosa si occupava questa comunità. Un cento sia un po' di tossicodipendenze e altri diseggi. Qui è la sede, da due anni. Varie strutture parallele, diciamo così. Quindi questa è come se fosse la sede principale, sostanzialmente. Quindi sia tossicodipendenze che altre... Sì, anche lì, giugio di basale e altre... Da qui, qua per fare la prima accoglienza. Ah, questa è la prima accoglienza. Cioè vengono, che ne so, vengono istruite su quello che sarà l'attività. Ma non si dorme qua, sostanzialmente. Questa è la struttura principale amministrativa. Sì, adesso c'è, sì, è amministrativa. Adesso c'è solo parte, c'è... C'è l'attività di progetto residenziale. Ah, però ancora deve partire. No, è partire, ma sono un po' che non è sì. Forse Becusconi viene a fare... Sì, dà un po' lo tempo, dicono così. La capitale forse... Vigoro, non so. Come Previdal, su te, è venuto qua. Vene qui, Previdi? Sono stato... Previdi. Il 2007, va. Ma lei l'ha vista qualche volta? Sì, sì, sì. Ma veniva qua come struttura? Sì. Faceva la consulente legale, qua. Sì, sì, giusto. Giusto? Sì, sì. Viene per l'autizia si è stato un po', così lo so, proprio bene. Come Previdi, che facevi? Veniva un po' e poi se ne andava la casa. Sì, stava andando, in qualche giornata, non veniva tutti i giornati. Parlate qualche volta, dai. No, io salutavo, stavo qui, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia. Ciao.